Lotta agli incidenti stradali, agli investimenti dei pedoni e dei ciclisti, maggiore sicurezza stradale nei punti più critici e delicati della città. L'amministrazione comunale va avanti con il suo obiettivo di restituire una città più ordinata e rispettosa di tutti i fruttori della strada. Partita la campagna di risistemazione della segnaletica stradale in tutto il territorio comunale dopo dieci anni di caos e di deregulation. Si parte dalle scuole per poi ricomprendere le cosiddette zone 30, 5 strade per questa prima sperimentazione in cui ci sarà l'obbligo di viaggiare a un massimo di 30 km all'ora e poi le strisce pedonali dal centro alle periferie. Quest'anno da qualche mese abbiamo rafforzato molto gli interventi sulla segnaletica, sia orizzontale che verticale. Proprio in questi giorni è stata rifatta la segnaletica fuori le scuole. Abbiamo iniziato dalla zona ovest per andare mano mano verso est perché vogliamo che quando le scuole si riaprono a settembre la segnaletica sia a posto in luoghi che sono proprio a rischio e sono attenzionati per la sicurezza stradale le scuole. Siamo partiti dalle scuole in via Ficara e poi abbiamo fatto anche il parcheggio esterno alla scuola di Amicis in via della Polveriera e mano mano siamo già intervenuti sull'attuale liceo classico che è ubicato nell'ex stabile, nel MUSP della dottrina cristiana e stiamo andando avanti e contiamo per l'apertura delle scuole di coprire a tappeto tutto. Le zone 30 siamo già partiti con via Panella e nei prossimi giorni ci sarà l'intervento di viale della Croce Rossa. Poi è stato programmato anche viale Corrado IV, via della Polveriera, necessita di un'ulteriore copertura finanziaria però su questo noi andiamo avanti. Abbiamo inserito dei lampioni a led che illuminano proprio le strisce perché si era verificato che nelle ore notturne c'erano stati degli incidenti insomma pure abbastanza seri in queste strade dove siamo intervenuti. Le segnalazioni comunque continuano ad intervenire, proprio stamattina una segnalazione per la via di Canzatessa Martin Luther King dove c'è stato ultimamente un incidente serio.